Ciao a tutti da Vivian BD da Blitz. Allora, questo video per tre importanti novità. Primo, intanto trovate i link del remix di Stay With Me. Vi ricordo che il remix di Stay With Me è stato curato da Mauro Vai e dalla Beat Records e ci sono due versioni, la versione di Panico DJ e di Carlo S e qua sotto troverete il link. Il disco è già uscito, il remix è già uscito. Seconda novità, un inedito. L'inedito si chiama Needed ed è curato da Mauro Vai e da Luke GF. Qua sotto troverete il link del preascolto perché l'inedito esce ufficialmente il 21 aprile ma c'è un pre-save che potete ascoltare. Terza novità, serata da Blitz, il 22 aprile al gazebo di Canelli Asti e avrete l'opportunità di sentire il nuovo concerto dei da Blitz. Ovviamente ci saranno le vecchie versioni di Let Me Be, Take My Way, Moving On, Take Me Back I Believe ma ci sarà anche la nuova versione di Stay With Me in versione remix. Chi mi segue lo sa al termine del concerto i miei remix di L'Amour Toujours e Tu Bevi Nell'Aria curati da Jack Mazzoni. Grazie per questo TG è tutto, alla prossima!